Nella lezione precedente abbiamo visto i principali complementi di luogo che sono quattro. Uno complemento di stato in luogo e gli altri tre di movimento. Complemento di moto da luogo, di moto a luogo, di moto per luogo. Ci sono altri complementi che riguardano sempre lo spazio. Veniamo al primo. Il primo è il complemento di luogo figurato. Cosa significa luogo figurato? Partiamo sempre dalle parole per capire il significato di ciò che abbiamo davanti. Vabbè, luogo riguarda un luogo. Figurato significa che in realtà quel luogo non esiste, è qualcosa che noi ci raffiguriamo nella nostra mente. Facciamo un esempio. Se io scrivo sono finito in un bel pasticcio. Procediamo con la nostra analisi. Sono finito è il verbo predicato, verbale, perché è finito. Chi compie l'azione di essere finito io, che sarà quindi il soggetto sottointeso. Dove? In un bel pasticcio verrebbe spontaneo pensare a un moto a luogo. Ma ragioniamo un attimo su questa parola. pasticcio. Veramente esiste un pasticcio in cui io possa infilarmi? Direi proprio di no. Il pasticcio è un cibo, è un modo di cucinare. Si chiama pasticcio perché dentro ci sono tanti elementi mescolati insieme. Ma in realtà quando io dico che sono finito in un bel pasticcio non sto dicendo che sono finito dentro una tortiera con della pasta ripiena. È un modo di dire. Quindi nella mia analisi io scriverò in un bel pasticcio sicuramente complemento di luogo ma di luogo figurato. la stessa cosa può valere per questi altri esempi. Pino cade sempre negli stessi errori. Pino è il soggetto della nostra frase. Cade è un verbo di movimento. Dov'è che cade? Negli stessi errori. Ci verrebbe da dire moto a luogo ma attenzione. Veramente l'errore è un luogo fisico? che io posso attraversare direi proprio di no. Anche in questo caso io dovrò scrivere negli stessi errori complemento di luogo figurato. Quindi ricorda che il complemento di luogo figurato che si comporta esattamente come gli altri complementi di luogo. Questo è ad esempio un complemento di moto a luogo. Ma noi dobbiamo specificare figurato perché in realtà il luogo a cui si riferisce è soltanto qualcosa che noi ci raffiguriamo nella mente. Nella realtà concreta quel luogo non esiste. Ci sono poi altri due complementi che appartengono sempre a questa famiglia. Uno è il complemento di origine o complemento di provenienza. L'altro è il complemento di allontanamento o separazione. Qui dobbiamo stare un pochino attenti e ricordati sempre di guardare il verbo, il predicato, oltre che al senso generale della frase. Quando fai l'analisi logica non concentrarti solo ed esclusivamente su un elemento per volta perché il significato della frase ti aiuta nella comprensione. Facciamo un esempio. Ines proviene dal Sud America. Facciamo la nostra analisi. Il verbo è proviene. Chi compie l'azione di provenire? Ines che quindi sarà il nostro soggetto. Proviene dal Sud America. Guardiamo il significato totale della frase. In questo caso la frase ci sta dicendo che Ines arriva dal Sud America perché ha appena preso un volo ed è atterrata all'aeroporto. Era in Sud America in vacanza. Oppure Ines proviene dal Sud America nel senso che è di origine sudamericana, che è nata in Sud America. Ecco qui sta la differenza. Nel secondo caso cioè se noi stiamo parlando di una provenienza nel senso di origine allora non posso scrivere moto dal luogo ma devo scrivere dal Sud America complemento di origine. Diverso sarebbe stato se io avessi scritto Ines proviene dal Sud America dove ha trascorso tre mesi di vacanza. Allora io leggendo questa frase capisco che in realtà stiamo parlando semplicemente di un moto dal luogo. Ecco che allora io in questo caso scriverò dal Sud America moto dal luogo perché mi sta semplicemente dicendo che arriva da lì. Mentre nella prima frase quel proviene dal Sud America mi sta indicando l'origine di questa persona. Facciamo un altro esempio. Se io scrivo dobbiamo allontanarci dalla pista perché è pericoloso. Beh intanto ti ricorderai che se devi fare l'analisi di questa frase cosa noti? Noti che ci sono due predicati. Uno è questo. Dobbiamo allontanarci. Predicato verbale. Ma ne ho anche un altro. È pericoloso che invece sarà un predicato luminale. Se io ho due predicati significa che ho due frasi e quindi la prima cosa da fare è capire bene qual è una e qual è l'altra. In questo caso la frase prima è dobbiamo allontanarci dalla pista e questa è una frase perché è pericoloso. È l'altra frase. Noi concentriamoci sulla prima. Allora chi compie la relazione di doversi allontanare. Noi soggetto sottointeso. Dobbiamo allontanarci dalla pista. Allora questo non è semplicemente un complemento di moto da luogo ma è il complemento di allontanamento o separazione. Perché? Perché ci indica il luogo che può essere un luogo ma può essere anche una persona o una cosa da cui ci stiamo allontanando, da cui ci stiamo separando. Quindi io scriverò dalla alla pista complemento di allontanamento o separazione è la stessa cosa. Facciamo un altro esempio. La libertà dalla tirannia è un bene fondamentale. Facciamo la nostra analisi. È un bene fondamentale. È il nostro predicato nominale. Chi è che è un bene fondamentale? La libertà che quindi sarà il nostro soggetto. dalla tirannia. In questo caso dalla tirannia ci sta dando l'idea di qualcosa da cui noi dobbiamo separarci. La libertà da che cosa? Dalla tirannia. Cioè la lontananza, l'allontanamento dalla tirannia è un bene fondamentale. Quindi in questo caso io scriverò complemento di allontanamento. Perché il concetto che mi sta dicendo è proprio quello di una separazione, di un allontanamento. Sono due complementi questi ultimi che a volte è difficile riconoscere. Ma per non sbagliare tu dovrai sempre guardare molto bene il significato complessivo della frase. Adesso come al solito ti consiglio di prendere carta e penna. Facciamo insieme qualche frase per vedere se hai capito questo ripasso. Adesso guardiamo insieme se hai capito il nostro ripasso. Frase numero 1. L'esploratore ha dovuto districarsi tra mille peripezie. Ha dovuto districarsi, predicato verbale, chi ha compiuto questa azione. Ha dovuto districarsi tra mille peripezie. Allora, tra mille peripezie indica sicuramente un luogo, ma in questo caso è un luogo figurato. Cosa sono le peripezie? Sono le avventure, le difficoltà, ma non sono qualcosa che esiste realmente. Cioè l'esploratore non è che ha attraversato veramente concretamente dei luoghi che si chiamano peripezie. Quindi noi scriveremo luogo figurato. Frase numero 2. I vichinghi arrivarono dal nord Europa. Arrivarono è il predicato verbale. Il soggetto sono i vichinghi che arrivano dal nord Europa. In questo caso ci stanno semplicemente dicendo che i vichinghi sono partiti dal nord Europa e poi si sono spostati da qualche altra parte. Quindi questo è semplicemente un motto da luogo. Se invece io dico i popoli scandinavi discendono dai vichinghi, in questo caso dai vichinghi mi sta indicando l'origine, la provenienza. E allora scriverò veniamo alla quattro. Non ti mettere nei guai. Predicato verbale, questa è voce del verbo mettersi. Ecco perché abbiamo preso dentro anche la parolina ti. Chi non deve compiere questa azione? Tu non la devi compiere, quindi tu sarai il soggetto sottointeso. Dove non ti devi mettere? Nei guai, che sicuramente mi sta indicando un luogo. Ma attenzione, i guai non esistono veramente, non sono un luogo fisico e quindi io scriverò luogo figurato. Uscendo dal cinema ho incontrato Pino. Io ho incontrato predicato verbale, Pino complemento oggetto e questa è una frase. Uscendo dal cinema, vedi che ci sono due predicati. Quindi se ci sono due predicati ci sono due frasi. Uscendo dal cinema. Qui sta indicando una provenienza nel senso di origine, direi proprio di no. Sta indicando un allontanamento, una separazione, direi proprio di no. Sta semplicemente dicendo che io prima ero al cinema e poi sono uscito e quindi questo è semplicemente un moto da luogo. Se invece io dico cerca di essere libero da ogni pensiero negativo, tu, soggetto sottointeso, cerca di essere libero. Vedete che c'è questa parolina libero che mi dà l'idea dello star lontano, del dovermi separare da che cosa? Da ogni pensiero negativo che quindi sarà un complemento di allontanamento, meglio in questo caso direi separazione. quindi ricapitolando. Stai molto attento al significato globale della frase e al significato dei verbi, dei predicati.